ragazzi e niente ho appena fatto una consegna diciamo ad un amico consegnato un drone importante è incazzato nero è incazzato nero cioè non ci posso credere o qui si sta parlando di 5.500 euro di drone e aspetta guarda guardate che guardate che è ma mi spieghi quale qual è il tuo problema allora innanzitutto i colori i colori rispetta i colori rispettiamo i colori portiamo i colori allora io osservo l'elica è la serrata ragazzi la serrata senti che cos'è che cos'è cioè ma non è anche il bimbi o il bimbi lo sapete o se il bimbi ragazzi è un oggettino no no fammi sentire l'altra fammi sentire quella per esempio l'altra zero e questa è perfetta ragazzi zero questa zero monta un attimo qua monta un attimo qua cioè mi fa incazzare ma che cosa dai mi devi trovare la soluzione aspetta fammi capire bene il problema fammi allora rumore zero senti dai ma insomma è un drone importante deve avere una particolarità dai sentiamo è bellissimo è stupendo è stupendo deve fa gioco lasca ora temi lasca allora aspetta lasca la scala da pesca ragazzi ma è incontentabile questo uomo ma vi rendete conto un drone del genere e sta a pensare con un x5 a bordo con un x5 a bordo eh ragazzi cioè non è che si sta a parlare di pizze e fichi cioè ragazzi ma perché ci incazziamo allora aspetta allora qual è il tuo problema fallo a me capiamo capiamo gentilmente la dj mi deve dare un drone che non fa aspetta no no questa io tanto no ma io zombie 2 la vendetta ragazzi no ragazzi non ci siamo eh danilo buon compleanno danilo ti voglio bene ciao no non ci posso credere fammi sentire no è qua quando lo fa qua è perfetto c'è qui è una merda qui è una merda qui è perfetto no ragazzi allora questo è un lavoro per un rivenditore dj serio allora marcello ascolta da chi ne hai comprato questo da antonio zenzio ok non su amazon non l'hai preso su amazon no ragazzi allora la soluzione è la seguente aspetta marcello ascolta la soluzione è questa ti è male dai ma ti lamenti sempre ma manco una suocera mestruata incallita allora dove ce l'avevo qua la soluzione no ce l'avevo dove questa è una margherita cazzo ce l'avevo qui ci giuro che avevo la soluzione giuro allora marcello tosta eccola qua ecco la soluzione è questa ragazzi questo ma ci rendiamo conto cioè rendiamoci conto qui si sta parlando di un drone di 5500 euro con la x5 ma che cazzo vuoi aspetta aspetta ti do la guarda inquadra guarda qua ragazzi si fa così si vede prendete vedo me stesso ma come me stesso aspetta switch a cavolo allora ragazzo abbiamo una soluzione professionale ad un problema professionale di un drone professionale da un rivenditore dj molto professionale allora marcello la soluzione questo acquista qual è sembri sembri silvan quando fai i giochi di prestigio si tiramenti tutti la mente io trovo le soluzioni cavolo allora qual è l'elica incriminata guarda vieni qua quella cos'è l'elica rossa senti senti che bel rumore ma è bello sul rumore è stupendo ma io non la voglio togliere vabbè allora si fa così dai tac allora si sta parlando dell'inspire 5500 euro di drone guarda come si fa si prende questa si mette qui va bene possiamo usare anche l'altra elica questa guarda ma ti rendi conto la dj e ti dà altre eliche per fare questo lavoro guarda non è che guarda tac ragazzi è qui pezzetto di caso vengo dalla zolla l'importante trovare soluzioni forza ragazzi dai siamo qui rimettiamo l'elica aspetta no ecco un po meglio va aspetta però e no e ragazzo ci vuole ci vuole un altro spessore ci vuole più di spessore ragazzi e prende un altro forse forse un po troppo questo mettiamolo qui forse mamma mia ti lamenti ti lamenti sempre guarda uno arriva qui ti porta una cosa stupenda e tutti i ramenti forza mamma mia finito finito è lo scottex il trucco scottex no che scottex cos'è clean ex clean ex scusa clean ex quelli che si usano a volte anche dopo ecco niente ragazzi a parte la gag che abbiamo fatto ci divertiamo sempre marcello oggi un amico fortunato mi ha fatto notare questo problema io ho mandato già una mail la dj per cui vediamo che risposta ci danno è proprio così ragazzi questi spy arrivano con delle eliche bellissime le rosse in questo caso rosse a me è capitato alle rosse non so affortunato se sono anche a lui le rosse le bianche comunque abbiamo un problema quindi per tutti i possessori fortunatissimi di un drone da 5.500 euro nel caso di marcello con l'ex 5s oh questo è il mio ma che cazzo dici questo è il mio c'è la 5s quella ragazzi comunque ragazzi ricordate clean ex non vi lamentate pezzetto di carta c'è sempre una soluzione di carta elica elica ma questa va benissimo madonna ma senti ma senti la dai allora vogliamo provare a risolvere anche questo qui è certo a questo punto allora senti 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 vibra vabbè niente ragazzi si prende così forse mettiamo mettiamo un po di scottex io mio mamma perché vi lamentate sempre ragazzi che cos'è un drone da 5.000 euro forza allora mettiamo un po di scottex lo rimettiamo qui si blocca sì probabilmente qui adesso ho esagerato certo questa durata se ho bisogno anche dell'altra elica è ops vediamo forse qui ho esagerato un po ecco adesso è andata tac minchia perfetto ragazzi e di che si sta parlando forza klinex ragazzi klinex la klinex e la dji praticamente si sono inventati stava per vedere più fazzottini non per vendere più droni è così aspetta no no vabbè finiamo perché voglio fare ho bisogno di consumare queste queste ultime allora ragazzi non disperate c'è sempre una soluzione non vi lamentate non fate come in altri gruppi che si lamentano si lamentano restate lamentarvi e della th th a proposito riccardo se se mi vedi in diretta abbiamo risolto tutti i problemi della